Un piccolo breve video, ecco il centro città un po' illuminato, vedete? Queste sono delle luminarie e queste sono le altre luminarie che conducono al palato che vi ho fatto vedere stamattina. E adesso vedete quello che disegna la Madonna Cugessetti. Ho veramente una fede proprio di segnare con i gessetti sulla strada. Come vi ho detto questa somiglia a Piazza delle Cupiche che sta a Trani ed ecco il resto di tutte le luminarie. Vi è fatto, hai fatto l'alto. Sì, sì. Ok, questa è il mio Tnapa, scusate l'interno di parlare, ed ecco qua. Ecco il centro città, al prossimo.